Schiato grosso il Bologna in una partita che per il numero di occasioni avrebbe potuto chiudere già nel primo tempo e che invece nel finale è andato vicino addirittura a perdere contro uno Spezia in 10. Troppo remissiva la formazione di Soda da un punto di vista tattico ancora non convincente in pieno quella di Ulivieri che comunque come ricordavate da studio bene o male da quando è tornato in rosso-blu non ha mai perso con oggi nove vittorie e quattro pareggi. Secondo Ulivieri il suo Bologna non è ancora pronto per il 4-4-2 allora di nuovo Marazzina in panchina nonostante un avversario che aveva preparato una gara di puro contenimento. La prima occasione con il doppio intervento di Santoni su Megni e poi su Nervo. Rarissime azioni di alleggerimento dello Spezia il diagonale di Guidetti non può creare problemi ad Antonioli. Dall'altra parte attentissimo Santoni decisivo sul colpo di testa ravvicinato di Zauli. Bologna però lento e senza grandi idee la palla buona la inventa Mingazzini per Bellucci stavolta con il piede la prudezza di Santoni. Molto ordinato lo Spezia a Soda può andar bene così. Ripresa Ulivieri inserisce Della Rocca per Nervo mentre si rinnova il duello tra Bellucci e Santoni ancora una volta alla meglio il portiere Spezzino. Santoni protagonista assoluto nel bene finora per lo Spezia nel male in occasione del vantaggio del Bologna. Eccolo, crossa di Daino da destra. Completamente sbagliato il tempo dell'uscita, tutto facile per Bellucci appostato. Doppio cambio deciso da Soda fuori Alessi e Guidetti dentro con falone Dionigi ma la reazione è solo in questa conclusione dell'ex Frara. Spezia in dieci anche per l'espulsione, doppia munizione di Nicola, fallo su Della Rocca. Bologna incapace però di affondare il colpo, bravo Santoni su Filippini. Nel finale si decide tutto. Al quarantesimo il pareggio dello Spezia. Antonioli non è impeccabile e Barricchio colpisce. Gol a sorpresa perché la squadra di Soda aveva fatto davvero molto molto poco e pensato in pieno recupero. Rischia anche il vantaggio sulla traversa e la pallonetto di Dionigi. In rete invece quello di Bellucci sul ribaltamento di fronte. Bologna salvato da una doppietta del suo capitano. Di buono soprattutto il risultato ma Olivieri non può essere soddisfatto così. Linea Franco-Lauro. Grazie Francesco e per Pancani i migliori. Ovviamente Bellucci e Grieco i peggiori. Castellini e Alessi, l'arbitro Brighi. Sei, non ci sono episodi da Moviola.